e come faccio a vedere se mi sto inquadrando ciao italiano dottore rafeli dove sono uscite qua? ciao ragazzi ciao ragazzi ciao ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, proprio... Ma stai riprendendo? Certo. Ciao, Perodo. Un saluto da Matera. Per il mio caro Oscar. Grazie. Ricambio per Gregorio e tutta la compagnia. Ottimo servizio allora. Dove sono i ragazzi che ci stanno? Chi vi è possibile? Grazie a tutti. Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti.